Una grande soddisfazione dopo un lungo lavoro, un lavoro durato quasi sette anni, oggi finalmente possiamo avviare i lavori di urbanizzazione di quest'area che è stata scelta a seguito di una procedura appunto prevista per la legge per la delocalizzazione della comunità di Ponzano. Quindi su quest'area verranno costruiti 31 fabbricati dichiarati inagibili con la frana di Ponzano che ospiteranno 39 nuclei familiari e circa più o meno 100 persone. Tempistiche dei lavori? Allora, si tratta di urbanizzare l'area allargando strade, stendendo servizi già esistenti. Indicativamente noi pensiamo che nel giro di sei mesi possano essere realizzati, nel frattempo però potranno essere avviati anche i lavori di ricostruzione privata, cioè privati che già hanno avuto in assegnazione i loro lotti e che sono pronti con i progetti potranno partire.